E' un'altra parte di un'altra parte. Il pallone per Cavani resiste l'attacco di un paio d'avversari, poi chiede l'1-2 Cavani, la smonta di testa, la vizzi in percussione, la vizzi! Palla di poco fuori, grande azione del Napoli. Conti, tocco di Mistiroli, è rimasto largo Agostini, da quella parte c'è anche Nengolana, Agostini, Valcross, acqua fresca! Immobile De Santis, la palla che va di poco fuori, seconda palla con l'acqua fresca. Il lancio di Santa Croce, lo scatto di Zuniga, arriva sul pallone colombiano. Controllo di Zuniga, cerca l'uno contro uno, dentro per Amsic, d'intacco l'inserimento di Lavezzi, atterrà Lavezzi, calcio di rigore! Calcio di rigore! Ammonito per il fallo a Riaudo. Cavani contro Agazzi, 3, 26 Cavani, 3, 2! Il nome è in vantaggio ed è a 3 punti dal Milan! Amsic, prova in percussione, Amsic, pallone morbido, controllo di Lavezzi. Il controcross, Arsic, addosso da Riaudo, poi Jebda, Agazzi, non è finita, ancora Jebda! Jebda si coordina per il cross d'ossena, è la sinistra, in aria, vuoto Cavani, attenzione, c'è pazienza! La deviazione che non arriva di Cavani, palla fuori, Napoli straripante! Il posto a Cossu, il cross, acqua fresca, si coordina, è disturbato ancora, acqua fresca, rete! Acqua fresca, è il primo gol alla Napoli in 10 partite e la Cagliari trova subito il pari. In acrobazia a Santa Croce, gira per Amsic, il controllo dello Slovacco e la pallonetta per Cavani, posizione regolare! Cavani, Cavani, rete, rete! Cavani fa esplodere il San Paolo, è guagliato poi anche il record storico del Napoli in Serie A! C'è Cavani che può partire, cerca l'ingressione aerea di rigore Cavani, palla dentro, Amsic, esterno della rete! Scatta le contropiede delle Napoli con Amsic che mette in movimento la Vezzi, può attaccare in velocità la Vezzi, punta verso l'area avversaria, c'è Cavani che arriva, il cross a cercare, ancora Cavani! Colpo di testa alto sopra la traversa, gran contropiede del Napoli! Si coordina per il cross, Victor Ruiz, palla in aria, colpo di testa a palo! Grande anticipo, palla sulla palo da parte di Mascara! Prova a partire Biondini, fischio della San Paolo, insiste il cale, il cross di Biondini, De Santis! Non è finita, sul pallone Cossu, prova a calciare al volo, si oppone Yevda! Dite la vostra, allora chi vincerà lo scudetto? Allegri, Leonardo, Mazzarri, dunque Milan, Inter o Napoli? State dicendo Inter, 41% la vittoria di oggi, la vittoria sofferta sul Lecce, poi al 37% Quello che avete appena visto, la vittoria del Napoli sul Cagliari!